Ciao, sono Emiliano Viola. Da più di dieci anni incontro albergatori e imprenditori di strutture ricettive con l'obiettivo di aiutarli a crescere da un punto di vista delle competenze e dei risultati da raggiungere. Dopo questo periodo difficile abbiamo deciso con il revenue team di Franco Grasso di venirti incontro con una proposta commerciale che non puoi rifiutare. Avviare la tua struttura a revenue management senza costi fissi.